RITA Vuoi restare qua? È perché non davvero. Passa! Ma oggi sta pure Rita con noi, oi? C'è una mano a fria di Mr. Jones. Non si è di giro. Oh oh oh! Il filo! RITA! Abbandonatevi i figli questo. Perché chi tocca il figlio e la roba se la dovrà avere con me. E me uno può portare un grado al cadina da bastare per qualche guai. Come gli ore che non male essi. Ti sento. Ma non vi chieda a San davanti alla bambina. Ve lo sciocco con una palladicchio. Marita che colpa ne ha? Su padre adesso è in galera. Noi dobbiamo proteggere i bambini. E lì alla Marseria non ci sono più le condizioni di sicurezza. La responsabilità me la assumo io. Guarda che quella da qua dentro se ne deve andare. Fuori di qui per lei. C'è solo il mondo da cui sta cercando di scappare. Questa è gente che capisce solo le mani dei forti, Giovanni. Noi non facciamo differenze fra di loro. Questo è un posto per i bambini. Per tutti i bambini. Mi pianta. Mi pianta. E mi pianta. Mi pianta. E lì a te. E te. E te.